Questo spettacolo però nasce da una rivisitazione di un'opera di Debussy, lui l'aveva musicata però non era mai stata messa in scena da lui né tantomeno da altri coreografi all'epoca. Fa un culo a tutti, fa un culo agli amiche, a tutti quelli che rompono con le loro stronzate. Sono bloccata da questo schifo che ho intorno, che ho vicino a me, su di me e dentro di me. Mi sento impedita da quello che sembra normale. Il tema che viene trattato è la violenza di genere. E' comunque la storia di una ragazza che vive nel suo intimo dei conflitti con l'altro sesso, ma fondamentalmente anche con se stessa. E questo è un gancio alla Boa Giugiu che parla proprio di un mondo dell'infanzia. Forse inizio a comprendere come vorrei essere. Finalmente me, semplicemente me, non come mi vedo negli altri, ma come mi vedo io. Sentirmi libera di scegliere solo chi mi apprezza. Sentirmi libera di scegliere solo chi mi apprezza. Sentirmi libera di scegliere solo chi mi apprezza.